Miss Italia 2016, Rachele Risaliti è stata ospite di un salone di bellezza a Brolo, modella e insegnante di ginnastica ritmica italiana, vincitrice della 77esima edizione di Miss Italia 2016, Rachele Risaliti, 21 anni, che vive a Firenze ed originaria di Prato, è anche testimonial di un'azienda specializzata nel mercato della bellezza e della cura dei capelli. Una giornata ricca di incontri e appuntamenti per lei, nella parrucchieria brolese, la ragazza dopo l'acconciatura e il trucco ha indossato la fascia tricolore di Miss Italia e la corona, per lei tanti incontri e fotoricordo con le persone che l'hanno applaudita e si sono complimentate con lei. Vivi tante emozioni ma è anche molto impegnativa e stancante, non lo posso negare, però è un'esperienza che ricorderò per sempre. Molte Miss Italia hanno preso poi la via del cinema, della televisione, lei? Io ancora non ho un obiettivo preciso, guardo cosa mi preserva il futuro e poi al momento deciderò, adesso mi voglio vivere questo anno pieno di impegni e con tranquillità. Ha un sogno nel cassetto? Ho un sogno nel cassetto, lo avevo perché comunque ancora non avevo vinto Miss Italia e ora non lo so, non ho un sogno preciso. E una passione? La passione è sempre stata appunto lo sport, quindi quella è la mia passione principale.